Paolo Arrigoni, che cosa sta accadendo sulla tassa dei rifiuti? Ma che nel Salva Roma c'è una norma che rischia di, sulla Tari, che è la nuova tassa rifiuti, che rischia di affussare i bilanci dei comuni. Facciamo un passo indietro. Nella legge di stabilità del dicembre, una legge di stabilità pasticciata soprattutto sulla riforma dell'imposizione fiscale degli immobili, hanno messo due norme in conflitto che riguardano la Tari. Non se ne è accorto nessuno. Il Ministero dell'Ambiente, qualche settimana dopo, ha fatto una circolare, il Ministro Orlando, oggi Ministro della Giustizia, dicendo e suggerendo quali delle due norme sopprimere. Nel Salva Roma il Governo Renzi, dove Orlando è anche Ministro, questa volta della Giustizia, anziché sopprimere la norma suggerita, ha soppresso quell'altra e questo crea un buco di bilancio nelle casse dei comuni. I quali stavano per apprestarsi ad approvare il bilancio di previsione, si sono bloccati tutti o attendono delle novità durante e in occasione della conversione del decreto Salva Roma, oppure si ritroveranno costretti ad aumentare le tariffe dell'igiene urbana sulle utenze, in particolare quelle domestiche, per tappare il buco che questa norma nel Salva Roma sta creando. E la Lega cosa sta facendo? La Lega ha già elaborato un emendamento che va proprio nella direzione auspiccata e suggerito dal Ministro Orlando quando era titolare del Castero dell'Ambiente. È un emendamento che noi auspicchiamo il Governo Renzi possa approvare e in questo modo si risolve il problema serio dei comuni, i quali comunque dovranno aspettare l'inizio di maggio, quindi ulteriori due mesi prima dell'approvazione del bilancio e questo sicuramente è una disattenzione nei confronti degli enti locali. Renzi, Sindaco d'Italia, con questo provvedimento si è dimenticato delle problematiche degli altri 8 mila sindaci e questo è molto grave.